Parlare di titolo della Vigor che torna a Trani è ancora prematuro, una cosa è certa, si lavora proprio in questa direzione. Ci sta lavorando in prima persona il sindaco Amedeo Bottaro, che ieri sera ha incontrato nuovamente esponenti della famiglia Lanza per capire le loro reali intenzioni e comprendere i margini per condurre in porto la propria missione. Il primo cittadino tranese ha messo sul tavolo della discussione le sue proposte. Ora si attendono le risposte definitive dell'altra parte interessata nella vicenda. Lo scenario che sembra profilarsi in ogni caso è il seguente. La Vigor tornerà ai traninsi e sarà gestita da un gruppo di imprendituri locali. Lanza invece proverà a bussare alla porta dell'USB Tonto. Se ne saprà di più ad inizio della prossima settimana. I prossimi giorni saranno decisivi intanto anche per delineare il futuro di Barletta e Molfetta. Nel primo caso intanto c'è da capire se ci saranno i margini per un nuovo incontro tra gli attuali soci Mario Di Miccoli, Walter Di Leo e Pino Pollidori con il gruppo di imprenditori guidato da Vincenzo Bellino dopo la fumata grigia del precedente summit. A Molfetta invece gli attuali dirigenti si sono incontrati per fare il punto della situazione e ad inizio della prossima settimana parleranno con il direttore sportivo Gianluca Frascati e con il tecnico Pino Giusto per vedere se ci saranno le condizioni per proseguire il rapporto di collaborazione. Buone notizie infine giungono sul fronte stadio. Il Paolo Polli dopo un anno in stand-by dovrebbe a partire dalla nuova stagione sportiva.